Ma tu ce l'hai tipo... un sogno. Un sogno? No, non te lo dico. Meglia? No. E perché? Tu poi mi prendi in giro. No, ma che ti prendi in giro, veramente? Non ti prendi in giro, te lo giuro. Mi interessa, qual è? Un salone di bellezza. Sì, ma io dicevo un sogno vero, un sogno grande. Scusa, ma ognuno ha il suo sogno grande? Che c'entra? Un salone tutto mio, te lo immagini?